Siamo qui al termine di Ramonda Ipag Montecchio Zambelli Orvieto con Montani autrice di una prova maiuscola 20 punti all'attivo e soprattutto l'arma in più nel recupero del quarto set dal 10 a 4 per Ramonda Ipag al 14 10 per Zambelli Orvieto. Ci voleva perché per noi la partita si era messa molto male, oggi diversamente dal solito eravamo un po' stanche anche forse dalle due gare anche quella infrasettimanale e abbiamo sbagliato tanto cosa che ultimamente invece abbiamo limitato tantissimo gli errori, serviva qualcosa in più e qualcosa in più deve venire dalle persone che comunque hanno più esperienza sulle spalle e visto che ne abbiamo parecchie che possono in qualsiasi momento svoltare la situazione ho cercato di fare il massimo, sono contenta di aver dato un contributo fondamentale per vincere il parziale. Bene, molti complimenti ancora e buon campionato visto che sono due squadre che si meritano la 2. Grazie mille anche a voi e in bocca al lupo a tutti. Grazie.